È apparsa la vecchia versione del famoso attore Khan Yaman, che attualmente sta proseguendo la sua carriera in Italia. Di Yaman. Coloro che hanno visto la sua situazione nei progetti a cui ha preso parte prima che diventasse famoso non potevano, credere ai loro occhi. Yaman, che ha preso parte a molti progetti straordinari prima della serie Erkensicus, che lo ha reso famoso, è curioso della sua vecchia serie e della sua vita. I fan che stanno indagando su di lui non possono nascondere la loro sorpresa quando vedono la vecchia versione del bel attore. Dopo essersi diplomato al liceo italiano, Khan Yaman si è laureato alla facoltà di giurisprudenza con il massimo dei voti. Yaman, che giocava a basket al liceo, si è migliorato così tanto che è andato all'università con una borsa di studio per il basket. Yaman, che ha scelto di recitare nonostante fosse un avvocato, ha fatto conoscere il suo nome a un vasto pubblico nel 2014 con Gonul Ileri e poi con la serie Full Moon. Il grande cambiamento vissuto da Khan Yaman, che è riuscito ad attirare l'attenzione con la serie Erkensicus, non è passato inosservato. Yaman, che ha scioccato i social con la sua bellezza, ha sorpreso chi l'ha visto. Attore famoso Coloro che vedono il cambiamento dicono, wow, loro hanno detto Non poteva fare a meno di dire